Allora dal Zibao numero 7 se non ricordo male io sono sempre Nicolò e questa è sempre la serie di video in cui ci sono consigli di lettura anzi più che consigli condivisioni di lettura oggi vi voglio parlare di Norwegian Wood di Murakami è uno di quei libri che intanto si presta anche a un atteggiamento un po snob perché questa è l'edizione in Audi in cui c'è il titolo originale che è Norwegian Wood ma in Italia la prima edizione tradotta uscì col titolo Tokyo Blues che è quello che trovate fra l'altro indicato qua sotto il titolo originale comunque è Norwegian Blues che è una canzone dei Beatles è la canzone dei Beatles che il protagonista ascolta in un momento di flashback in cui va a ripercorrere con la mente un momento specifico della sua vita cioè quello in cui incontra la ragazza del suo miglior amico che è recentemente morto suicida questo è un po l'inizio di questo di questo flashback come al solito un po il genere che genere forse un romanzo di formazione anzi sicuramente un romanzo di formazione perché Murakami ci racconta quel periodo specifico della vita in cui ci si approccia all'età adulta ci si approccia all'età adulta ancora con un forte desiderio di sentirsi parte di una comunità di una società e dall'altra parte invece con la voglia di non perdere la propria unicità quindi la voglia di rimanere se stessi quindi è un momento in cui queste due forze si incontrano e si scontra in maniera in maniera molto forte di più come al solito non mi addentro a raccontare la trama se non che è il flashback del protagonista che appunto va a ripercorrere alcune parti della della sua vita dunque cos'altro cosa dire su questo libro io ho un'idea precisa e cioè che questo sia un romanzo che ha intanto è come i grandi romanzi come avevo detto anche a suo tempo per furore per esempio è un romanzo che non perde mai di attualità nonostante sia datato perché comunque mi sembra che racconti e riporti degli dei fatti fra la fine degli anni 60 all'inizio degli anni 70 quindi c'è una generazione specifica quella che viene fotografata dal racconto di Murakami ma appunto come tutti i grandi romanzi è eterno nel senso che certe dinamiche certi problemi certe difficoltà sono proprio di tutte quante le generazioni può variare magari il momento in cui avvengono ci sono generazioni precoci ci sono bene generazioni tardive non so se si dice forse è radicchio che può essere precoce o tardivo le generazioni però credo che il senso si sia si sia capito però questo momento qui un momento ricorrente e è molto bello che sia così io ho un un rimpianto che quello di averlo letto solo recentemente quindi ormai alla soglia dei 50 anni è invece uno di quei libri che mi sarebbe tanto piaciuto avere in mano a vent'anni però diciamo che sarebbe stato ancora più disastroso se io non avessi mai letto Murakami è un autore che ho scoperto molto tardi l'ho scoperto con la passione della corsa tutti quelli che vanno a correre a piedi che si sono allacciati almeno tre volte le scarpe per andare a correre intorno a casa hanno letto poi dopo l'arte della corsa di Murakami a me quello non mi ha sedotto e conquistato mi ha fatto venire solo una grande invidia per il tempo che trova lui per andare a correre ma non è uno di quei libri che per me che rientra nella nella mia top ten posto che non c'è una una top ten però poi dopo mi sono imbattuto in questo Norwegian Wood non mi ricordo neanche il percorso che mi ha portato a leggerlo forse culo mi verrebbe da dire è appunto il mio rimpianto è proprio quello di non averlo letto nel nel momento giusto cioè nel momento in cui si hanno vent'anni perché nel momento in cui si hanno vent'anni questo può essere non una guida perché non ha quel tipo di pretesa però è un guarda che non sei solo guarda che certe dinamiche certe difficoltà certi attriti certi pesi certe angosce le attraversiamo tutti e ci deve essere un modo per venirne fuori quindi diciamo che non so se avete un nipote che si aggira a cavallo dei vent'anni o giù di lì potete regalarglielo per natale sicuramente fate la figura dello zio della zia figo che regala il libro giusto perché è questo è merito allora prendiamo un po d'ordine se no faccio tutto un unico pensiero non si capisce un cazzo di quello che voglio dire allora come abbiamo detto Murukami allora torniamo 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 a noi siamo un romanzo di formazione un romanzo di formazione che riguarda appunto il passaggio dall'adolescenza all'età adulta un romanzo in cui Murukami riesce ad avere una grandissima sensibilità emotiva per questo che è eterno e riguarda tutti quanti noi proprio perché da un punto di vista emotivo è estremamente sensibile l'altra cosa è la scrittura qui sì che invece ho apprezzato proprio la scrittura di Murukami perché riesce a essere non lo so seta mi viene in mente un altro modo di dirlo però riesce a essere seta nel suo tratteggiare questi stati emotivi e queste profonde angosce sempre con estrema eleganza e delicatezza quindi una scrittura che esalta un libro che è che è grandioso quindi un libro che io vi consiglio di regalare a tutti i ventenni che vi stanno attorno così fate anche bella figura un libro che però se non avete letto bisogna recuperare perché vi riporterà ai vostri vent'anni vi farà parte farà pace con alcuni dei vostri demoni e vi aiuterà anche a sciogliere magari qualche nodo che può essere rimasto in sospeso bene detto questo appunto Murukami non ho detto di chi hanno a questo libro in genere lo dico che è una roba che non so se può interessare o meno ma adesso recuperiamo è dell'87 ok è dell'87 quindi un libro che viaggia anche lui per aversi 40 anni Murukami Norwegian Wood un libro che io vi consiglio che dovrebbe essere un libro irrinunciabile se avete vent'anni che in cui dovreste inciampare se avete i vent'anni esagero cazzo se dovete leggere fra questo e il giovane olden leggete questo bom poi il giovane olden vuoi non leggerlo è bisogna leggerlo a scuola te lo fanno leggere bene nel momento in cui a scuola vi danno in mano il giovane olden voi quando l'avete finito leggete questo oppure se vostro figlio alle superiori a un certo punto tira fuori fa a scuola ci fanno leggere il giovane olden bene capolavoro assoluto un libro stupendo quando ha finito voi andate da lui e gli dite adesso leggi questo perché sta sta nella stessa frase basta non dico più niente mi è piaciuto un sacco leggetelo grazie se avete visto il video fino in fondo e questa la settima puntata come ho detto arriverò a 10 questo era Norwegian Wood primo titolo con cui è uscito in italia Tokyo Blues e lui è Murakami ho detto Murakami giusto tutto il tempo ho detto Murakami in ogni caso mi scuso è Murakami dove si aveva sbagliato è venuto un